Siamo, siamo, siamo a Mario. Siamo, siamo, siamo a Mario. Bene cari amici, allora prendiamo in mano il nostro libro, la donna e il drago, siamo arrivati cari amici alle battute finali, ci dispiace che cosa non può separarci da questo libro, ma credo che questo libro sarà di grande attualità, soprattutto nei prossimi anni, soprattutto nei prossimi anni perché è chiaro che siamo entrati nella grande battaglia fra la donna e il drago ed è in questa battaglia che si manifesterà l'amore, la misericordia e la potenza di Maria, la potenza del suo amore materno, del suo amore misericordioso. Maria è inviata da Cristo per sostenerci nel difficile passaggio, forse in uno dei più difficili passaggi della storia umana quando il drago appunto sta lanciando la sua grande offensiva contro l'opera della creazione e della redenzione. Noi siamo appunto alle battute finali perché il capitolo tredicesimo che è l'ultimo capitolo del nostro libro è intitolato La Gerusalemme Celeste che è il golfo di luce verso il quale è indirizzata la navicella della storia, però nel medesimo tempo è anche quel golfo di luce verso il quale è indirizzata la nostra vita personale. Abbiamo visto, guardi amici, che secondo la prospettiva della saga scrittura, all'inizio della saga scrittura c'è il paradiso. È un paradiso terrestre ma comunque è un paradiso terrestre perché è collocato qui su questa terra, ma c'è già la presenza dell'essenza del paradiso che è la grazia, che è l'amore di Dio di cui erano insegniti, circonfusi i nostri progenitori. Quindi l'inizio della storia umana è nella luce, nella gioia, nella pace e nell'amore. Il termine della storia umana è la Gerusalemme Celeste dove non ci sarà più né lutto, né lacrima, né lamento e quindi il termine della storia umana è ugualmente, anzi, è positivo. Quindi all'inizio, alla fine dell'avventura umana c'è il bene, c'è l'amore, c'è la gioia, c'è la pace, c'è la felicità. Nel bel mezzo c'è il dramma del male e del peccato e della divina misericordia che ci salva. Abbiamo visto, cari amici, che uno dei temi più importanti delle apparizioni di Maria da Fatima a Meggiugorie è il richiamo verso l'eternità. Le apparizioni di Fatima sono iniziate con la parola cielo perché la prima domanda che ha fatto Lucia alla Madonna è da dove vieni e la Madonna ha risposto dal cielo e l'ultima parola, l'ultima immagine dell'apparizione di Fatima sono appunto i cieli aperti dove i tre bambini vedono appunto la sacra famiglia e Gesù che benedice il mondo. La medesima cosa, anzi ancora più forte, il richiamo all'eternità dell'apparizione di Meggiugorie. Come sapete a Meggiugorie la Madonna ha mostrato i seve genti il paradiso, l'inferno e il purgatorio ma soprattutto ne ha portati due di loro nell'aldilà. A vedere fisicamente il paradiso, l'inferno e il purgatorio è questo certamente uno dei fatti più sconvolgenti nella storia dell'apparizione perché non si tratta di una persona e quindi un'esperienza mistica personale ma di due persone che fra l'altro sono anche fisicamente scomparse per venti minuti dalla terra. E perciò siccome qui a Radio Maria abbiamo sentito proprio la testimonianza diretta più volte di queste persone che sono dei ragazzi, dei giovani ormai, di padri di famiglia assolutamente normali, credo che a questo punto ci sia da chiedersi perché questo richiamo così forte da parte della Madonna riguardo all'eternità. Perché siamo in un momento in cui gli uomini, compresi i battezzati, compresi molti cristiani, si sono lasciati catturare da una visione materialistica della vita, una visione intramondana della vita, per cui l'uomo nasce dalla polvere e ritorna in polvere. Per cui l'uomo è il suo corpo, per cui non esiste l'anima, per cui l'uomo è un animale, per cui l'uomo è ciò che mangia, per cui l'uomo fa la fine degli animali. E cari amici, quando si ha questa concezione dell'uomo, è inutile che mi si venga a dire, come diceva Lorenzo dei Medici, nel 1500, godiamoci la vita perché del diman, diceva lui, non c'è certezza. Siccome non c'è certezza del domani, godiamoci la vita, come diceva il poeta romano pagano Orazio, carpe diem, afferre il giorno perché domani non si sa cosa c'è. Ebbene, cari amici, io mi chiedo, se con la morte finisce tutto, mi chiedo cosa voglio godere. Se con la morte finisce tutto, a me mi faccio di traverso anche il caffè, abbiate pazienza. Se con la morte finisce tutto, non riesco a gustarmi neanche una tazzina di caffè, non riesco a gustarmi neanche un istante della vita. Perché? Perché uno, scusate, mi siete mai messi nei panni di un condannato a morte, come avviene per esempio negli Stati Uniti, dove un condannato a morte magari aspetta 15 anni, ma dico, aspetta 15 anni, ma deve essere 15 anni di inferno, perché non si sa mai che il giorno dopo ti chiamano e dico, guarda che è giunta l'ora, no? Allora, se siamo tutti condannati a morte, perché siamo tutti condannati a morte, cari amici, perché non è che a chi la tocca la tocca, la tocca proprio a tutti, la tocca proprio a tutti, siamo tutti condannati a morte e dei 6 miliardi di persone che sono oggi viventi sulla Terra, sono poco più di 6 miliardi, tiriamo via alcuni migliaia di ultracentenari, tutti gli altri fra cent'anni saranno tutti morti. Allora, se non c'è l'eternità, mi volete spiegare cosa si fa nell'aldiquà? Se non c'è l'eternità, ma vale la pena sbattersi da tanto? Se non c'è l'eternità, vale la pena alzare ogni mattina alle 5 e mezzo e andare a letto alle 11 e mezzo di sera? Non so, io, lo vorrà tutto il giorno. Se non c'è l'eternità, vale la pena? Non vale la pena, ragazzi. Se non c'è l'eternità, non vale la pena neanche vivere. Allora, è una barzelletta, quella che ci dice i falsi maestri di oggi, che hanno cattedre molto importanti, specialmente quelle televisive, che ci insegnano a consumare la vita. Neanche la vita fosse un gelato da consumare. Ci insegnano a consumare la vita. sono illusioni sataniche, sono illusioni sataniche. Aveva ragione Leopardi, quando diceva, se la vita è sventura, perché da noi si dura? E' chiaro, cari amici, che se il destino comune è il disfacimento totale, se c'è il nulla dopo, se con la morte finisce tutto, mi chiedo se valga la pena lavorare otto ore al giorno. A questo punto, ragazzi, prende forza tutta la visione del cristianesimo, che è un annuncio dell'eternità, che è un annuncio della vita eterna. Abbiamo visto appunto nella precedente catechesi, cari amici, come la regina della pace a Međugorje ci ha più volte insegnato a vivere la vita come cammino verso l'eternità. Anzi, proprio questa espressione cammino verso l'eternità è una sua espressione. La Madonna ci ha ricordato che noi siamo come i fiori di primavera, che oggi sono meravigliosi, domani non se ne trova traccia, però la Madonna ci ha anche detto non dimenticate che qui sulla terra siete in cammino verso l'eternità e che la vostra dimora è il cielo. Quindi dobbiamo vincere, cari amici, prima di tutto la paura e l'angoscia della morte, ma anche vincere quella, come dire, quella prospettiva terrestre secondo cui andiamo verso la morte cercando di frenare, ma intanto il tempo passa lo stesso. Allora, alziamo gli occhi verso il cielo e vediamo la vita come cammino trionfale verso l'eternità, verso il giorno delle nozze, perché poi, cari amici, per chi ama Dio e per chi crede in Dio la morte è un momento noziale per eccellenza, perché è un momento in cui finalmente, come ci insegna il Cantico dei Cantici, dopo che la sposa ha tanto cercato e ha seguito lo sposo, finalmente lo vedrà faccia a faccia. Allora, se questa, cari amici, è la corretta, giusta, vera, vera, assoluto vera e comunque gratificante impostazione della vita, cioè la vita come cammino verso l'eternità, qual è qual è l'unica cosa necessaria su questa terra, qual è l'unica cosa necessaria, qual è l'obiettivo da raggiungere a tutti i costi, a costo di perdere anche tutti gli altri obiettivi, qual è quell'esame che si deve assolutamente passare, anche se poi magari una sola cosa è necessaria, la salvezza eterna della propria anima, tutto il resto, cari amici, è diversivo, tutto il resto è inganno, tutto il resto serve a niente, che giova l'uomo guadagnare il mondo intero se poi perde la sua anima, che cosa giova l'uomo guadagnare il mondo intero se poi perde la sua anima, se invece uno salva la sua anima, ha ottenuto tutto, anche se poi è rimasto in mutande, una sola cosa necessaria, la salvezza eterna della propria anima, ricordiamoci, cari amici, che questa certezza interiore ci sarà di grandissimo aiuto oggi e soprattutto domani, perché a cosa ci servirà salvarla a pelle domani se poi perderemo la fede o per paura rinegheremo la fede o per salvare la vita del corpo perderemo la vita dell'anima, una sola cosa necessaria, la salvezza eterna della propria anima, a costo di perdere tutto il resto, allora vediamo questo che è uno dei segnamenti più importanti del Vangelo è uno dei richiami più pressanti che ci rivolge alla regina della pace, perché in mano il libro La Donna e il Drago siamo a pagina 190, leggiamo e commentiamo, Incominciamo con la citazione del Vangelo di Matteo capitolo 16 versetto 26 Qual vantaggio infatti avrà l'uomo dice Gesù se guadagnerà il mondo intero e poi perderà la propria anima o che cosa l'uomo potrà dare in cambio dalla propria anima poiché il figlio dell'uomo verrà nella gloria del padre suo con i suoi angeli e renderà ciascuno secondo le sue azioni perché oggi si ammazza per un pezzo di pane oggi si ammazza si ammazza la propria anima per un pezzo di pane per avere qualcosa di più si ringhia tutto il giorno per avere qualcosa di più mentre i beni spirituali che sono un oceano infinito che sono i più gratificanti che sono tutti gratis quelli vengono disprezzati quanto è stolto l'uomo cari amici chi misurerà la sua stoltezza in un passaggio storico pieno di seduzioni e di illusioni come il nostro dove il carpe diem goditi la vita e la filosofia dominante il cristiano deve essere testimone dell'essenziale c'è forse domanda domanda di quelle lì che non si fanno mai quiz televisivi c'è forse qualcosa di terrestre su cui poggiare i piedi senza affondare c'è forse una sola cosa materiale che il tempo implacabile non corroda e non divori c'è forse una sola sicurezza umana che possa passare indenne l'esame del giorno dopo la vanità universale delle cose che scorrono via veloci è la grande lezione che la nostra generazione apprenderà volente o nolente la buffata di effimero che caratterizza la nostra epoca lascerà gli uomini più famerici e si dibondi che mai nel fuggi fuggi dalle ore dei giorni nello scorrere inesorabile della chessida della vita sapete cos'è la chessida no? è quella specie di strumento con della sabbia a imbuto a duplice imbuto la sabbia esce dall'alto e scende nel basso continuamente e lo scorrere della sabbia è da una parte all'altra della chessida della vita ebbene l'uomo cerca in questo fuggi-fuggi in questo passa-passa in questo scorri-scorri l'uomo cerca istintivamente un punto fermo e un'ancora di salvezza sente la necessità di uno scoglio a cui aggrapparsi nel fluire incessante delle onde cerca una roccia solida su cui costruire la casa della vita in modo tale che possa resistere alle tempeste del mondo che passa tocca ai cristiani che hanno gli occhi aperti sul cielo indicare l'essenziale ebbene che cos'è l'essenziale della vita se non la salvezza eterna della propria anima anche se gli anni che ci stanno davanti fossero tutti di progresso e di pace anche se la fame e la malattia venissero debellate il secolo nel quale siamo entrati non divorerebbe da solo oltre 6 miliardi di uomini la nostra sorte sarebbe dunque identica a quella dei pesci e delle mosche una generazione intera sarà dunque ridotta a un nucleo di fosfati sepolti nel ventre della madre terra alla fine tutto qua giù diventerà polvere eccetto il tesoro prezioso dell'anima questa scintilla divina presente in ogni uomo non è soggetta al tempo che passa e che corrode ogni cosa non teme la fame le malattie la vecchiaia e la morte l'anima teme un solo nemico che può ucciderla e perdere eternamente è il peccato e il suo regista infernale salvare la propria anima nel tempo dell'odio e della disperazione e anche della seduzione cari amici quando il drago andrà a caccia per catturarne il maggior numero possibile è il compito più importante al quale prepararsi perché guardate che quando il drago suona il violino vedrete voi in quanti correranno quando il drago comincerà a suonare il violino vedrete voi in quanti correranno crevendo magari che sia il Cristo e poi invece l'anticristo non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo ma non hanno potere di uccidere l'anima temete piuttosto colui che ha il potere di far perire il corpo e l'anima nell'inferno nella genna se queste parole di Gesù hanno il valore per ogni tempo non c'è dubbio che la nostra generazione di cristiani dovrebbe imprimere nel cuore e meditarle ogni giorno cioè non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo ma non hanno potere di uccidere l'anima temete piuttosto colui che ha il potere di far perire l'anima e il corpo nella genna queste parole cari amici tenemole bene a mente la vita del corpo è sempre più a rischio nessuno di coloro che escono da casa al mattino è sicuro di ritornare alla sera la morte la morte segue ognuno come un'ombra da quando il terrorismo indiscriminato ha esalato i suoi miasmi mortali dalle viscere dell'inferno nessuno più ovunque si trovi può considerarsi al sicuro la vita del corpo non è nelle nostre mani ma lo è quello dell'anima nessuno può provocare la morte dell'anima senza che essa lo voglia vivere in grazia di Dio mentre sulla terra dilaghi il peccato è il compito per il quale impegnarsi ogni giorno siamo entrati in tempi in cui la veste candida della grazia santificante è la sola armatura che assicuri la vittoria in un solo istante potremmo passare dall'esilio terrense fino alla città santa del cielo in un solo istante cari amici la grande tragedia del nostro tempo sta nel fatto che stiamo imboccando il periodo più difficile e pericoloso del cammino umano senza la prospettiva e la speranza dell'eternità allora quelli cari amici che non hanno questa prospettiva nei tempi difficili cosa fanno? si disperano coloro che sono tanto attaccati alla vita terrena sperimenteranno sulla loro pelle quanto è fragile effimera fugace e ingannevole i maestri che ora con tanto successo insegnano l'arte del godere la vita difficilmente troveranno allievi disposti ad ascoltarli l'angoscia e la disperazione travolgeranno tutti coloro che hanno immaginato un mondo senza Dio e senza eternità cari amici non si venga a dire che io faccio il profeta di sciagure dico che i prossimi anni saranno anni di grande misericordia perché saremo il mondo sarà chiamato a scegliere davanti a Cristo e siccome molti si convertiranno avremo il tempo dalla pace ma l'angoscia e la disperazione travolgeranno tutti coloro che hanno immaginato un mondo senza Dio e senza eternità coloro che per soddisfare il corpo hanno ucciso l'anima si renderanno conto della trappola mortale in cui il nemico li ha rinchiusi beati coloro che con l'anima rivestita dello splendore della grazia potranno spiccare il volo verso il cielo con le ali spiegate della fede e della speranza cari amici e naturalmente questa meditazione cari amici era necessaria questa meditazione sulla morte andava fatta andava fatta specialmente oggi quando usciamo di casa ma non sappiamo se torniamo questa è la verità nuda e cruda allora questo richiamo all'immortalità dell'anima e alla mortalità del corpo e alla vita eterna era un dovere che andava compiuto anche se pochi oggi anche nella chiesa lo compiono ma però non voglio lasciarvi cari amici con la mare in bocca perché vorrei appunto illustrarvi prima di chiudere questa magnifica espressione delle litanie della madonna maria porta del cielo cioè il cielo si è spalancato maria è venuta qui in mezzo a noi ci ha portato l'eternità maria ci prende per mano e ci guida verso l'eternità allora vediamo anche questo questa pagina che ci apre il cuore naturalmente alla speranza alla gioia non vorrei lasciarvi con la paura della morte cari amici anche se io personalmente ho nessuna paura della morte perché grazie a Dio grazie a Dio so che è il momento sponsale della vita cari figli anche oggi vi invito alla preghiera dice la madonna il 25 luglio del 1995 perché solamente nella preghiera potete capire la mia venuta qui lo spirito santo vi illuminerà nella preghiera perché capiate che dovete convertirvi dovete convertirvi perché è impenitente la nostra generazione è impenitente avrebbe la possibilità della pace e la via della conversione ma non la vuole percorrere figlioli desidero fare di voi un bellissimo bouquet di fiori ecco l'aspetto sponsale perché il bouquet è quello del matrimonio no desidero fare di voi un bellissimo bouquet di fiori preparato per l'eternità ma voi non volete accettare la via della conversione la via della salvezza che io vi offro mediante queste apparizioni cari amici mettiamoci bene in testa che queste frasi qui dette nel 95 quando era terminata la guerra di bosnia era pure terminata valgono tuttora figlioli non volete accettare la via della conversione la via della salvezza che io vi offro mediante questa apparizione non volete accettare ma voi non volete accettare io voglio fare di voi un bellissimo bouquet di fiori preparato per l'eternità ma voi non volete accettare la via della conversione la via della salvezza la regina della pace più volte paragona le nostre vite a dei fiori che oggi sono meravigliosi ma dei quali domani non vi è più traccia alcuna ebbene l'ancela del Signore ha ricevuto l'incarico di raccoglierli e di consegnarli a Dio come un magnifico bouquet per questo lei ci invita incessantemente sulla via della conversione affinché ognuno di noi rivestito della grazia della santità possa essere con lei in paradiso la Madonna come ha sottolineato a Fatima è ben consapevole che oggi molte anime vanno all'inferno perché non vi è nessuno che si sacrifichi e interceda per loro viviamo in tempi in cui Satana è sciolto dalle catene e vuole trascinare il maggior numero possibile di anime sulla via della rovina Satana è forte dice la Madonna il 25 maggio del 95 e con tutte le sue forze vuole attirare a sé e al peccato quanto più persone possibile per questo sta in agguato per carpirne ogni momento di più capito ogni momento mette nel sacco vi prego figlioli vi prego figlioli aiutatemi perché vi possa aiutare Satana è forte e con tutte le sue forze vuole attirare a sé al peccato quanto più persone possibile per questo stai in agguato per carpirne ogni momento di più vi prego figlioli aiutatemi perché vi possa aiutare l'amore materno di Maria vigila su tutte le anime perché possono giungere alla meta per la quale Dio le ha create il paradiso per raggiungere questo obiettivo la Madonna è rimasta così a lungo con noi e ha chiesto il nostro aiuto si tratta certamente di aiutare l'umanità a costruire il mondo nuovo della pace ma più ancora di condurre ogni anima in cielo infatti vi c'è la Madonna il 27 novembre del 2002 non tanto lontano caramici dopo quindi recidio dalle due torri io vi amo cari figli con un amore speciale e desidero condurvi tutti in cielo da Dio io desidero che comprendiate che questa vita dura poco in paragone a quella del cielo perciò cari figli decidetevi oggi di nuovo per Dio solo così potrò mostrarvi quanto mi siete cari e quanto desidero che tutti siate salvi e siate con me in cielo Međugorje 27 novembre 2002 25 novembre 2002 scusate la madre vuole che i suoi figli siano là dove si trova lei questa data è sbagliata c'è stato un refuso qui poi vi dirò la data giusta la madre vuole che nella nuova edizione comunque è già stata corretta la madre vuole che i suoi figli siano là dove si trova lei opera perché tutti entrino all'eternità beata vuole che tutti siano cittadini della giurale celeste vedi come qual è il progetto di Maria da Fatima a Međugorje salvare tutte le anime e presentarle a Dio questo è il progetto di Maria da Fatima a Međugorje e naturalmente anticipare il tempo dalla pace divina qui su questa terra la madre opera perché tutti i suoi figli entrino nell'eternità vuole che tutti siano cittadini della Gisusalemme celeste il richiamo all'eternità è uno degli aspetti più impressionanti dell'apparizione di Međugorje la Madonna ha mostrato in visione i seve genti il paradiso all'inferno del purgatorio e ha portato due di loro nell'aldilà col proprio corpo perché constatassero di persona la realtà che ci attende dopo la morte e il giudizio tuttavia nei suoi messaggi emerge in modo particolare la prospettiva luminosa del paradiso che vuole indicare alla nostra generazione smarrita nelle tenebre dell'incredulità e del male come approdo di salvezza e di gioia la Madonna nei suoi messaggi ci indica soprattutto il paradiso ha mostrato l'inferno ci ha parlato dalla via della rovina ma nei suoi messaggi ci mostra soprattutto il paradiso a un mondo che sta costruendo giorno per giorno il regno del male la Madonna indica instaccabilmente la via della santità del paradiso mentre Babilonia la grande divenuta covo di demoni accumula i suoi peccati fino al cielo in area dei fragelli che pendono sul suo capo ecco che la regina della pace mostra i suoi figli smarriti la città santa la Gerusalemme celeste la dimora di Dio con gli uomini la prospettiva del paradiso è uno dei messaggi di cui l'uomo moderno ha più bisogno l'umanità gemente e piangente in questa valle di lacrime inutilmente troverà la consolazione e la forza di vivere nelle cose che passano in un momento in cui gli uomini avvertono che la loro casa terrena è a rischio sono più che mai disponibili ad alzare gli occhi al cielo verso una dimora stabile che non vedono ma la quale aspirano testimoniare il paradiso ecco la consegna che la regina della pace lascia al suo esercito di testimoni quindi cari amici uno dei compiti più importanti di questo nostro tempo che noi cristiani abbiamo è testimoniare che la vita è un cammino verso l'eternità e testimoniare il paradiso che Dio ha promesso a tutti coloro che si aprono al suo amore sarà la luce della Gerusalemme celeste dove Maria ci vuole accanto a sé a sostenere i credenti nel momento in cui Babilonia come dice l'Apocalisse sarà bruciata dal fuoco perché potente il Signore Dio che l'ha condannata Apocalisse 18,8 naturalmente qui per Babilonia cari amici non intendiamo le nostre città o le nostre case intendiamo il mondo del peccato del regno del male quella Babilonia che noi abbiamo costruito nei nostri cuori quando questa Babilonia brucerà sarà consumata e nel nostro cuore ci sarà l'amore di Dio allora la l'immagine della Gerusalemme celeste si apre davanti i nostri occhi e qui su questa terra potremo costruire un anticipo di paradiso grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.